Questo mi convince, questo non mi convince, voglio dei fiori, no, anzi voglio un bosco, però una prateria sconfinata forse sarebbe meglio, però voglio il parcheggio, no, quel materiale non mi piace, voglio il cemento, no, voglio la pietra, voglio il legno, voglio, 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 non capisco cosa voglio. Questo è quello che ci succede spesso quando ci troviamo a lavorare con qualcuno che ci aiuta a realizzare il nostro giardino, a sistemare la nostra terrazza, a fare lo styling di casa nostra, delle nostre piante, ma anche con geometri, architetti, ingegneri. Insomma, questa cosa ti capita spesso quando ti trovi a lavorare con altre persone. Io sono Francesco Cecchetti, faccio giardini, aiuto le persone a fare giardini e parlo di giardini in questo podcast che si chiama Giardino Rivelato. Un podcast dedicato a noi, non dedicato, ma dedicato a noi che pensiamo che i giardini siano una cosa utile, fondamentale, bella per la vita delle persone e dedicato anche a quelli che non se ne rendono conto o che non lo pensano. E questo podcast in realtà è dedicato a noi, professionisti e professioniste dei giardini, del verde, agronomi, paesaggisti, garden designer, consulenti, giardinieri, giardinieri paesaggisti e a voi, a te, cliente, che devi rapportarti con una persona. Soprattutto a te che molto spesso non vieni da una storia d'amore con le piante e quindi ti senti, come dire, sperso, spersa nel mondo, in questa foresta difficile da gestire. Non sai come approcciarti a questa materia così strana, questa materia che è molto simile per esempio all'arredamento, alla gestione dei colori, delle forme, degli spazi all'interno di casa, ma che deve tener conto di così tanti fattori in più, come ad esempio la biologia delle piante che andiamo a mettere, il rapporto tra terreno, la vita all'interno del terreno, l'umidità. Insomma ci sono tanti fattori. Quindi proprio per questo vado subito al punto del podcast di oggi, cioè questa indecisione nella scelta dello stile del nostro giardino e delle piante secondo me può essere un ancora di salvezza per la nostra psiche in un momento che magari può far paura perché stiamo facendo un investimento, un investimento economico per pagare la persona a cui chiediamo, aiuto a fare un progetto, il consulente, la consulente, la ditta che si occupa della realizzazione. Scegliere colori, forme, stile ci sembra un modo per avere tutto sotto controllo e quindi magari in corso d'opera può capitare di dire ma no questo non mi piace più, cambiamo, no piuttosto quello, piuttosto quell'altro. Quando si fa un giardino noi siamo spesso succubi dell'indecisione e questo secondo me è legato al fatto che il giardino, ne parlavamo già la settimana scorsa, se vuoi vai a recuperare l'episodio sull'impazienza e le piante, come dire il giardino porta in sé questa lentezza, questa immobilità sembrerebbe che è data dal ciclo biologico delle piante. Le piante hanno un effetto diverso, se tu arredi casa con dei mobili nuovi quella casa avrà un pronto effetto, certo però non avrà l'aspetto vissuto, magari si vede che è tutto nuovo di fabbrica, un nuovo di artigianato e che quindi mancherà la patina del tempo in senso positivo, non avrà l'aspetto di una casa vissuta. Ecco, nel giardino è ancora più evidente questa cosa e quindi noi ci ispiriamo a foto di giardini che vediamo in giro in rete, su Pinterest, su Instagram o qualunque, o su una rivista e ci domandiamo ma io forse voglio questo oppure voglio quest'altra cosa. Secondo me quello che riesce a trasmettere un giardino lo riesce a trasmettere non solo per l'estetica ma anche per il modo in cui è tenuto, la felicità che riesce a trasmettere alle persone che lo abitano questo giardino. E quindi non sono qui a dirti quale stile scegliere ma ti do due consigli. Il primo consiglio è di prendere una decisione e di provare a vedere a cosa ti porta. Un giardino ci impiega almeno due anni, tre anni per avere una giovane maturità, come dire, per avere somiglianza con quello che sarà nel tempo. Quindi nel momento in cui tu hai messo un qualcosa non puoi sapere, tu che non hai esperienza ma anche chi l'ha realizzato, ogni volta è diciamo una scommessa, non puoi sapere cosa uscirà fuori, quale pianta prenderà il sopravvento sull'altra, non lo so, quale pianta reagirà bene a questa posizione, insomma è un insieme di esseri viventi che crescono insieme. L'altro consiglio che ti do è di voler bene a questo giardino e di starci bene il più possibile, di godertelo, perché nel momento in cui te lo godi questa piacevolezza nello starci vedrai che verrà trasmessa anche attraverso le foto, proprio come le foto che ti hanno colpito viste su internet o sulle riviste. E quindi questo, abbi coraggio e abbi fede, parla con la persona con cui realizzerai il tuo giardino, se vuoi chiamarmi per realizzare un giardino parliamo, insomma confrontiamoci, tentiamo di capire quali sono le necessità e poi prendiamo una decisione senza ansia, senza angosce. Il giardino deve essere una cosa bella, può risolvere dei problemi e può creare tante cose belle nella tua vita e quindi facciamole vedere. Fammi sapere che ne pensi, lasciami un commento qui sotto e vienimi a trovare su giardinorivelato.it così possiamo rimanere in contatto, poi insomma tramite i social, tramite il gruppo, il canale su Telegram, ecco, insomma, vienimi a trovare. Ti aspetto e intanto ti ringrazio di questo tempo passato insieme e di questa chiacchierata fatta con la scusa dei giardini.